Papà, come mai sei già di ritorno? Non sono ancora passate le 24 ore. Hai ragione, adesso ti spiego. È atroce, è così ma Jimbo sta distruggendo la terra. Che essere immondo! Mi fai provare quella spada solo un minuto? È la spada Z, vero? Esatto. Sta' attento però, è molto pesante. Sì. Furca! Altro che pesante! Ma di che cosa è fatto? Ora ci riprovo. E così questa spada dovrebbe conferire poteri speciali a chi la utilizza. Non credo ai miei occhi. Come può maneggiare la spada Z in quel modo dopo un attimo? Allora la potenza dei super saiyan è davvero senza limiti. Senta Kaioshin le spiace se resto qui con Gohan finché termina gli allenamenti con la spada. Non darò fastidio, prometto. Certo, non c'è problema, resta pure se vuoi. Grazie infinite allora. È troppo chiederne anche se mi offre qualcosa da mangiare. Ho una fame da lupi, non ce la faccio più. Sicuro? Che ne dici Gohan? Vuoi fare anche tu una piccola pausa? Ci sto. Vi faccio strada. Seguitemi, prego. Allora ti sei trasformato in super saiyan di terzo livello. Deve essere un'esperienza eccezionale. Altro che dopo che ci saremmo rifocillati ti darò una dimostrazione se vuoi.